lo so lo so a vedermi così non mi dareste mai un centesimo non mi credereste mai il motore dell'universo eppure è da tanto troppo tempo che faccio parte delle vostre vite non ricordo nemmeno quando è stata la prima volta che ho preso consapevolezza di me stesso sono successe troppe cose guerre pestilenze catastrofi ricordo che una ventina di anni fa fu la minaccia terroristica a gettare nel panico il polo fu allora che capì che sarebbe stata la paura la mia arma più potente invisibile e implacabile ci provano in tutti i modi a farmi soccombere eppure io sono ancora qua la gente continua a temermi la paura mi rende immortale quest'anno è stato particolarmente intenso per me ho riempito gli ospedali distrutto famiglia modificato le abitudini e stravolto la vita di miliardi di persone ho sentito dire che la ricerca scientifica ha trovato un modo per fermare forse è giunto il momento di salutarvi il contenuto del vialz deve essere portato a soluzione in una siringa con fisiologica e poi dalla siringa madre ricostituita viene fatto il frazionamento in 5 dosi si già me lo immagino il vostro commiato tutti insieme organizzerete feste ovunque berrete e danzerete fino in notte fonda viaggerete per il mondo in posti mai visitati affollerete le spiagge riempirete i locali brinderete felici alla mia di partita bravi bravi siete riusciti a sconfiggervi o forse no grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.